Durante il viaggio a Pisa e durante il soggiorno al campeggio Torre Pendente, chiaramente si è visitata la Torre di Pisa, ma soprattutto i suoi dintorni e la città di Pisa, che è una città decisamente bella. Oltre a essere una città universitaria, è una città ormai dove il turismo lo fa da padrone, dove c'è un'ottima ristorazione e la possibilità di vedere momenti culturali decisamente interessanti, come ad esempio quelli relative al Galileo Ferrari. e poi è un'ottima ristorante, come si chi sa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.